e ci prendono solo che al mio amico lo mettono a fare il cameriere a me mi mettono a fare il facchino di cucina e quindi non avevi i contatti e io dico cazzo facchino di cucina e vabbè che mi frega l'importante è entrare là non sapevo che il facchino di cucina sai cosa fa? allora ti dico che il lavapiatti già ti può dire cose cioè il lavapiatti ti può dire ma tu vieni qua il lavapiatti è quello il facchino di cucina è quello che ha una stanza a parte e pulisce le teglie quelle piene di grasso quelle proprio che praticamente quando io finivo il mio turno facevo talmente puzza che non potevo neanche andare ad usufruire dei servizi